Omicidio volontario aggravato da futili motivi e dalla premeditazione. Questa è l'accusa formulata dalla procura di Nuoro nei confronti di Mario Faris, 76 anni di Lula, pensionato e ritenuto responsabile dell'omicidio di Antonio Longu, di 72 anni, assassinato nel cortile del condominio in cui i due vivevano, con due colpi di pistola alla testa la mattina dell'8 gennaio, a due passi dal municipio del paese. I carabinieri del reparto operativo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro, supportati dai militari della compagnia di Biti e dalla stazione di Lula e dai rissi di Cagliari, hanno chiuso le indagini. Sono stati trovati importanti riscontri all'ipotesi investigativa formulata nelle ore successive al ritrovamento del corpo senza vita di Longu, che con Faris aveva avuto più di uno scontro. I particolari dell'operazione sono stati resi noti stamattina nel corso di una conferenza stampa dal Maggiore Marco Ketten, comandante del reparto operativo, dal Capitano Luigi Mereu, responsabile del nucleo investigativo, e dal Maresciallo Francesco Luongo, comandante della stazione di Lula. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri stamattina. Faris, che è ricoverato dal giorno del delitto nell'ospedale Zonchillo di Nuoro, è piantonato dai carabinieri e non appena le sue condizioni lo consentiranno, verrà trasferito a Bada e Carros. I carabinieri, nelle ore successive al delitto, hanno fatto una serie di controlli e avuto riscontri sulla responsabilità di Faris. L'omicidio è stato commesso tra le 9.15 e le 9.30. Faris è stato avvistato sulla 131 da una pattuglia di carabinieri diretto a Nuoro attorno alle 10, un orario compatibile con la sua presenza sulla scena del crimine. Quindi si è presentato prima allo Zonchillo e poi al San Francesco perché ha problemi di salute. All'origine del delitto ci sarebbero questioni futili a partire dalle liti sull'antenna televisiva. Nei giorni scorsi, inoltre, i rischi di Cagliari hanno fornito l'esito dello stab che è risultato positivo. Tutti gli elementi che hanno portato il pubblico ministero Andrea Ghironi a chiedere la misura cautelare accolta dal GIP di Claudio Cozzella. L'unico è stato colpito da due colpi di pistola calibro 7,65, ma la pistola non è stata ancora trovata. Nei prossimi giorni Faris sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia.